Lo scopo di questa lezione è per un verso rappresentare, se dovessero essere forniti tre gruppi diversi, le relazioni insiemistiche che intercorrono tra questi gruppi, rappresentarle in alcuni casi particolari e poi cercare di estrapolare da questi casi particolari un approccio di tipo generale che possa aiutare nella rappresentazione di gruppi di tipo diverso. I tre gruppi citati sono quelli dei cani, dei gatti e degli animali. Nel momento in cui si deve utilizzare la rappresentazione insiemistica, possiamo iniziare per esempio a rappresentare un insieme, che è l'insieme contenente i cani. La domanda che ci si deve fare quando si va, una volta rappresentato il primo insieme, a rappresentare il secondo, è se nel secondo insieme ci sono elementi che appartengono o no al primo degli insiemi citati. In questo caso non ci sono elementi dell'insieme dei gatti che appartengono anche all'insieme dei cani, per cui nel momento in cui vado a rappresentare l'insieme dei gatti, lo devo rappresentare in un modo disgiunto, cioè non ci devono essere accavallamenti tra i due insiemi. A questo punto vado ad analizzare il terzo insieme. Il terzo insieme che è stato citato è quello degli animali e mi chiedo se c'è qualche relazione con i due insiemi precedentemente citati. E' chiaro che sia i cani che i gatti sono degli animali, per cui se dovessi rappresentare l'insieme degli animali non potrei farlo disgiunto da quello dei cani e dei gatti, perché i cani e i gatti sono appartenenti anche all'insieme degli animali oltre, in modo separato, all'insieme dei cani e quello dei gatti. Quindi l'insieme degli animali, per essere rappresentato, deve includere l'insieme dei cani e quello dei gatti. L'insieme degli animali, quindi porta al proprio interno gli altri due citati. Proviamo a fare un altro esempio. Un altro esempio, immaginiamo che gli insiemi siano quelli composti dai pasticceri, l'insieme delle persone anziane e l'insieme degli abitanti del Texas, dei texani. Nuovamente il tentativo di rappresentazione. Partiamo dall'insieme dei pasticceri e nel momento in cui andiamo a vedere il secondo insieme, cerchiamo di capire se ci può essere qualche relazione con il primo degli insiemi citati. E' chiaro che se il secondo insieme è quello degli anziani, ci potrebbe essere un pasticcere anziano. Se ci può essere un pasticcere anziano, dobbiamo cominciare a pensare che il secondo insieme, in qualche modo, sia accavallato al primo e questo accavallamento, che nella teoria insimistica va sotto il nome di intersezione, è il sottoinsieme che contiene i pasticceri che sono contemporaneamente anziani o gli anziani che sono contemporaneamente pasticceri. Ci si deve poi chiedere, per completare questo insieme degli anziani, se è possibile che ci siano degli anziani che non sono pasticceri e in effetti è possibile, ci può essere un giovane che è un pasticcere e quindi l'insieme degli anziani va completato con una porzione degli insieme che non si accavalla con quello dei pasticceri perché è possibile che ci siano dei giovani, quindi non pasticceri, quindi non all'interno dell'insieme dei pasticceri, che siano anziani. A questo punto ci si interroga sul terzo insieme. Il terzo insieme è quello dei texani. Ci possono essere dei texani pasticceri? Sì. Ci possono essere dei texani anziani? Anche. Beh, ci potrebbe contemporaneamente essere un texano che è sia pasticcere che anziano, per cui si comincia a operare un'intersezione nell'insieme intersezione già precedentemente fatto, al cui interno ci sono i pasticceri che sono contemporaneamente anziani e contemporaneamente texani. Altra domanda per proseguire eventualmente l'intersezione nell'insieme degli anziani stesso. Ci può essere un texano che è anziano ma non è pasticcere? Sì. Allora si prosegue con un'ulteriore intersezione qui che mi dice che ci sono anziani texani. Allo stesso modo ci possono essere dei texani pasticceri che non sono anziani. E ad ultimare ci possono essere dei texani che non sono né pasticceri e né anziani. Proseguiamo con un terzo e ultimo esempio. Lettere, parola e vocabolario. Consideriamo l'insieme, il primo insieme, l'insieme delle lettere. Quindi questo è l'insieme delle lettere. E affrontiamo la relazione eventualmente possibile tra il secondo insieme, quello della parola, quello delle parole e quello delle lettere. E le lettere, per mia interpretazione, possono anche essere considerate singolarmente delle parole ad una sola lettera. Per cui l'insieme delle lettere è incluso nell'insieme delle parole. Mi devo poi chiedere se ci sono delle parole che posseggono anche più di una lettera. Perché se ci sono delle parole che posseggono più di una lettera, come in effetti è, l'insieme delle parole non solo include quello delle lettere, ma è più grande. Perché ci possono essere, qui per esempio, delle parole che non sono lettere. A questo punto si conclude l'analisi attraverso l'interpretazione del termine vocabolario. L'insieme dei vocabolari, in teoria, si sta analizzando. Beh, se si considera come presupposto che i vocabolari siano completi, se sono completi contengono tutte le parole e di conseguenza anche tutte le lettere. Per cui l'insieme vocabolario è un insieme includente gli altri due e quindi va rappresentato in questo modo. Nella risoluzione di questi esercizi, per quanto siano oggetto di prove preselettive, io credo che l'approccio, diciamo, mnemonico, cioè la memorizzazione di tutte le batterie di domande, sia molto più svantaggioso che non l'interpretazione dei significati stessi e quindi un minimo di spesa di tempo in più nel momento in cui uno deve capire come gli insiemi entrano in relazione alle descrizioni e come si possono o meno intersegare e poi aver fiducia nel fatto che nel momento in cui nella prova preselettiva dovesse capitare un esercizio o un test che non è mai stato fatto, lo si possa correttamente interpretare e quindi affiancare questa corretta interpretazione ad una buona conoscenza di fondo dell'argomento e quindi poterlo risolvere senza doverlo per forza memorizzare.